Allora scende il cancelletto di partenza, immediatamente al comando la srota, un già tese, il tripleto la tesa, ieri Battista che non molla e va all'attacco del quadro, e passa un segno di Battista, per attenzione al ritorno, un solo per l'ultima burra, ecco la, carlaro, ecco la daga, ecco la daga, ecco la tesa, ieri Battista che si attende, è l'ora, 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 Grazie a tutti